Chi ha il cuore debole perché non fondato su Cristo è rigido nella disciplina esteriore, ma ipocrite e opportunista dentro. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando il Vangelo di Matteo nel quale i capi dei sacerdoti chiedono a Gesù con quale autorità compia le sue opere. A loro non interessava la verità, ha spiegato, cercavano solo i loro interessi e andavano secondo il vento. Conviene andare di qua, conviene andare di là. Erano banderuole. Gesù al contrario ci insegna che il cristiano deve avere il cuore forte, il cuore saldo. Non si negozia il cuore, non si negozia la roccia. La roccia è Cristo, non si negozia. E a proposito di disciplina rigida, Papa Francesco ha ricordato quando, era ragazzino, Pio XII ci liberò da quella croce tanto pesante che era il digiuno eucaristico. Ma alcuni di voi forse ricordano che non si poteva neppure bebere un goccio d'acqua. E per lavarsi i denti si doveva fare tal modo che l'acqua non venisse dentro. Ma io da ragazzo sono andato a confessarmi di aver fatto la comunione e credevo che un goccio di acqua è andato dentro. E' vero o no? E' vero. Quando Pio XII ha cambiato la disciplina, no, eresia, no, ha toccato la disciplina della Chiesa, tanti farisei si sono scandalizzati. Tanti. Perché Pio XII aveva fatto come Gesù. Ha visto il bisogno della gente, ma povera gente, con tanto caldo. Questi preti che dicevano tre messe, l'ultima luna, dopo mezzogiorno, in digiuno alla disciplina della Chiesa. E questi farisei erano così. La nostra disciplina, rigidi nella pelle, ma come Gesù le dice, putrefatti nel cuore, deboli, deboli, fino alla putredine, tenebrosi nel cuore. Grazie.